Il presidente americano Donald Trump ha commutato la pena del suo ex consigliere Roger Stone condannato alla detenzione nell'ambito dell'inchiesta sul Russia Gate dopo 40 mesi di carcere. Stone era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere e riporta la stampa statunitense dal procuratore Robert Mueller per aver ostacolato le indagini. Ha già sofferto molto, ha scritto la Casa Bianca in una dichiarazione ufficiale ed è stato trattato ingiustamente come molti altri in questo caso. Roger Stone è ora un uomo libero.